cosa ti racconto del la pozza del felice il mio romanzo edito rubettino è un romanzo che ha toccato la corda dell'anima di tante persone è stato tradotto in tedesco in francese in spagnolo e le risposte che io ricevo dal mondo germanofono dal mondo francofono dal mondo ispanico sono più o meno tutte le stesse la gente si emoziona per la vita semplice e minimalista ma così profonda del protagonista del mio romanzo il felice e chi è il felice il felice è un anziano novantenne che vive in un paesino di montagna delle alpi ticinesi in svizzera in questo paesino io la baita di vacanza e ho conosciuto davvero la persona reale che ha ispirato il mio romanzo il felice è un personaggio che lo si può definire un mistico anche se un mistico non lo è lo si può definire forse anche un filosofo ma un filosofo non lo è lui è semplicemente una persona che vive nella sua silenziosa e taciturna esistenza felice e contento con se stesso quindi avendo ricevuto avendo raggiunto la felicità interiore lui è distaccato e non ha bisogno di sapere quello che succede nel mondo non ha bisogno perché non lo vuole perché non ha bisogno di stare al passo quei tempi che corrono lui sta bene nel suo piccolo minimalismo che si è costruito è una persona che vive con poche cose pochi oggetti poche vere relazioni sociali i pochi amici del paese però relazioni profonde e quindi forse forse il successo di questo romanzo va anche a interpretarsi in questa maniera perché in questo periodo così frenetico in cui tutta l'umanità è stata colpita da questa tragedia della pandemia e tanti di noi hanno dovuto fare un passo indietro a rallentare e pensare veramente a quali che sono le cose importanti nella vita il felice queste cose qui ce le spiega ci già ci dà una risposta a questo ci dà una formula da seguire per per star bene con se stessi e la sua formula semplicissima è questa noi per stare bene non abbiamo bisogno di tante cose non abbiamo bisogno di correre dietro a amazon che deve portarci qualcosa che abbiamo ordinato entro 24 ore le ferie la paga i debiti correre a destra e a sinistra noi non abbiamo bisogno di tutto questo noi abbiamo solamente bisogno di fare un passo indietro e cercare di vivere come vivevano i nostri vecchi saggi nei paesi con poche cose ma cose essenziali cose cose delle quali non si può fare a meno le cose essenziali della nostra vita in poche parole sono mangiare avere un tetto sopra sopra la testa e e alcune vere e sane relazioni con la gente che ci circonda tutto il resto è superfluo e e e e e e Grazie a tutti.